Musica Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City versa nuovamente in uno stato di abbandono e degrado il sito storico delle 100 fontane a Torre del Greco anche i torresi la pensano così e denunciano ai microfoni di TV City la situazione non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano diminuiscono i contagi nella città di Torre del Greco in chiusura la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi per la salute pubblica questo ed altro, guardiamo i servizi Le 100 fontane di nuovo in balia del degrado e dei festini clandestini uno dei siti storici più importanti di Torre del Greco teatro tanto di incontri amorosi quanto di scene di vita quotidiana sembra destinato all'abbandono ogni volta in cui l'amministrazione comunale o i cittadini hanno provato a riabilitarlo è corrisposta ad un veloce ritorno ad una situazione di degrado lo scorso giugno un gruppo di tifosi e la Turis ripulì volontariamente il monumento ma a sette mesi di distanza, nonostante restrizioni e pandemia le 100 fontane tornano ad essere una discarica anzi probabilmente la loro peculiare posizione in basso rispetto al manto stradale ben nascosta alla vista le ha resi il luogo ideale per evitare controlli e divieti le nostre telecamere questa mattina hanno chiaramente evidenziato che in molti hanno utilizzato il sito per festeggiare il Capodanno in barba alla zona russa la pavimentazione è completamente disseminata ai cocci rotti e di bottiglie e spumante vuote insieme ad immancabili bicchieri e stoviglie di plastica a confermare gli eccessi di fine anno i resti di fuochi d'artificio fatti esplodere sul posto alla mezzanotte e mai rimossi dagli improvvisati fuochisti ma il degrado non si limita ai bagordie e alle feste erbacce e rovi crescono ormai ovunque fra ogni intercapedine delle pietre storiche una folta vegetazione invaso tutto annaffiata dall'incuria di chi dovrebbe predisporre almeno un minimo di manutenzione e di pulizia inoltre questi rovi nascondono pericoli gravi se consideriamo che l'accesso al sito è aperto a tutti fra i cespugli si sono formate buche molto profonde e fossi la maggior parte dei tombini e pozzetti risulta scoperchiata qualunque bambino che si trovi a girare in zona magari rassicurato all'assenza di autoveicoli rischia di sprofondare in uno di questi vuoti e di ferirsi tra lamiere arrugginite in ultimo ma non meno grave l'intera zona è cosparsa di escrementi dal luogo di pulizia in cui le casalinghe torrisi andavano a fare il bucato a luogo di decenza utilizzato come bagno pubblico oltre alle deiezioni canine a cui siamo purtroppo abituati spiccano quelle chiaramente umane con tanto di carta igienica usata e abbandonata vicino si segnalano anche rifiuti chiaramente casalinghi abbandonati nei pressi di finestre e balconi degli edifici circostanti evidenziando che anche molti residenti preferiscono lanciare la spazzatura direttamente nella discarica sotto casa ovviamente non esente a colpi un'amministrazione che dovrebbe valorizzare, vigilare e proteggere l'enorme patrimonio culturale cittadino di cui le centofontane sono o dovrebbero essere la punta di diamante Degrado e abbandono ma la colpa è di chi deve vigilare anche i torresi soffrono per il degrado in cui versano le centofontane soprattutto i cittadini che ancora riescono a ricordare quando il luogo era il centro della storia e della vita quotidiana ai torri del greco Le centofontane di nuovo nell'abbandono dopo la bonifica prima del periodo estivo Sì, sì, non passa molto tempo che già abbandonano tutto il degrado aumenta sempre fanno i lavori e dopo 10 giorni nessuno controlla niente impondizia, spazzatura, acqua, cacca di cane, tutto nessuno controlla niente i vicini passano e se ne vanno e la gente fa quello che vuole laggiù Sono numerose anche le abitazioni nei dintorni delle centofontane perché c'è un palazzone là ci sono molti abitanti e lì c'è il degrado e lo vedono pure loro si affacciano e trovano le impondizie, la spazzatura e tutto quello che c'è, c'è poi no, nessuno va a spazzare ogni tanto dopo 5-6 mesi vedi qualcuno che va a spazzare un po' però il giorno dopo è di nuovo così perché non c'è il controllo non c'è il controllo nessuno si interessa qualche volta il vigile lo vedo passare ma non è che camminino come una volta andavano a vedere le piccolette se ci sono delle cose che non vanno nessuno si interessa di niente nessuno siamo una città abbandonata è uno stato di abbandono perché gli amministratori forse non sono buoni ci comandano la città, non è buono non si interessa si interessano solo i rifiutati perché questo potrebbe essere anche un'acqua potabile è un'acqua salutare e i macchini non sono fanno passare anche per la capa paremmi a ricorrere come sta da fare? cucisce la mappiglia con noi stessi anche i cittadini che sversano rifiuti all'interno? vabbè questo poi non è che è proprio per le abbandonate non sono fanno passare neanche per la testa e intanto quelle delle prime zone della città erano queste è proprio a bondone proprio io resta a vedere il sindaco di Torre del Greco dove sta? guarda si affaccia dal mercurio non vede delle centrafontane tutte maridotte andiamo sempre a peggiorare poi ho fatto una domanda del tombino da 20 anni sta sempre così non viene mai a giustare fanno sì, sì, sì e non viene mai a giustare questo è Torre del Greco siamo proprio decaduti sono 16 le nuove guarigioni registrate ieri a Torre del Greco certificate anche tre casi di positività al covid-19 di cui uno solo in regime ospedaliero e di restanti posti in isolamento domiciliare muta dunque il bilancio dei contagi da covid-19 nella città sono 30 i soggetti attualmente ricoverati 294 posti in isolamento domiciliare 2532 guariti totali dall'inizio della pandemia e 82 decessi a Torre annunziata sono 9 i nuovi casi di contagio da covid-19 certificati nella giornata di ieri al contempo si registrano anche 12 guarigioni scende a 343 il numero di cittadini attualmente positivi 333 posti in isolamento domiciliare e 10 ricoverati sarà in 1788 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria di cui 1414 guarite e 31 decedute il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nel corso di tre distinti interventi oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione all'interno del porto di Napoli i finanziari del secondo gruppo a seguito di specifiche attività di analisi di rischio ed osservazione del territorio hanno individuato nel sedime portuale partenopeo tre aree di concessione ad altrettante società in cui erano ammassate tonnellate di rifiuti speciali parte dei quali classificati rifiuti pericolosi in particolare le fiamme gialle hanno rinvenuto tra l'altro 6 container 5 dei quali pieni di rifiuti 3 cassoni di cui 2 pieni di rifiuti 7 semirimorchi per trasporto di container nonché vernice e solventi bombole per gas e ossigeno pneumatici usati materiali ferrosi un muletto un'autovettura ridotta a rottame al termine dell'operazione le aree per complessivi 1700 metri quadri sono state sottoposte a sequestro 3 responsabili sono stati denunciati per attività di gestione deposito e stoccaggio di rifiuti senza le previste autorizzazioni e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale prima di salutarvi vi ricordo come sempre i nostri contatti utili l'email redazione chiocciolatvcity.it o il numero di telefono 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale grazie a tutti Autore dei sovrapposti